Scusate, prima di lei c'ero io. Ah, poveretta, va a capitare anche nel giorno dell'ennesimo sciopero dei mezzi, che vergogna. Meno male che non ci capisce. Big traffic today! Ci ho comprendo tutto. Mi ha studiato italiano prima di venire a vacanza Italia. Sei spagnola? Sono argentina, mi chiamo Alejandra. Io sono Sofia, sono napoletana. Anzi, lo ero. Adesso sono milanessa. Ciao, io sono Nicoletta, sono di Venezia. Faccio la fotografa. Ti piace Milano? L'hai girata un po'? No, arriverà da poche ore. Mi ha visto solo la parte massima importante. Piacere, io sono i 6, di Casablanca. Piacere. Scusa, sciopero del tuo paritalia, se non arrivo in tre minuti. Sì, tre minuti. A te ci vorrebbe il teletrasporto. Peccato che non funziona. Cinque anni fa era molto dura per me. Adesso sto bene. Non ci penso neanche a lasciare Milano. Dai, ma non partire domani mattina. Vedrai sull'autostrada per tre giorni. E poi, se vuoi, vuoi dormire da me. Oh, grazie. Senti, è molto simpatico. Però, come avevo con mia madre? Per i soldi del biglietto, l'ho detto che dovevo fare il tour d'Italia per la tessia di storia. Non preoccuparti, cara. Ho un'idea. Acà, è il Colosseo. Han combattito le guerre non massi importanti del mondo. Sto è in Regione, una delle cose più famose da Italia. Si Ello qui savez ci sono Che originale No sai perché dicono che i canali di Venezia hanno smell FROM! e questo è Milano beh, avevo molto tempo per vedere ma sicuramente la gente è fantastica